Con una delibera approvata nel tardo pomeriggio di ieri, la Giunta regionale ha affidato la gestione delle naia di Di Pescara alla Fira. Alla finanziaria regionale abruzzese, l'esecutivo a guida Marsilio ha attribuito l'incarico di una riapertura immediata dell'impianto sportivo per una gestione pubblica e temporanea, che prevede una prima manutenzione degli impianti in vista di una prossima ripresa delle attività sportive entro fine mese. Chiuse ormai dallo scorso 21 novembre, giorno in cui è stato revocato l'ultimo affidamento al club acquatico, durato poco più di un mese, le naia di tornano dunque a una gestione pubblica, in attesa che si individui una soluzione gestionale di lungo respiro, che per i sindacati è sinonimo di stabilizzazione dei precari, come spiega Guido Cupido della SLC CGL di Pescara. Siamo soddisfatti perché è stato fatto un lavoro sinergico, va detto, con la regione Abruzzo, un lavoro sinergico che ha coinvolto anche le organizzazioni sindacali, quindi di questo siamo assolutamente soddisfatti. Si tratta di un lavoro durato alcuni mesi, che hanno segnato una svolta, perché finalmente si individua una strada alternativa, una strada, una gestione pubblica dell'impianto, che per questa regione rappresenta sicuramente un fiore all'occhiello, l'ha rappresentato e noi pensiamo che debba tornare a rappresentarlo, per la valenza che ha per il territorio, ma per la valenza che ha anche a livello nazionale e internazionale. È chiaro che si tratta di un affidamento temporaneo alla fila e ricordiamo comunque che è una società gestita in house dalla regione Abruzzo, che segna un passaggio importante e noi pensiamo comunque che debba rappresentare anche il momento insomma di svolta nella gestione, che quindi ci auspichiamo sia una gestione di lungo termine affidata a una gestione pubblica. Rimangono dal nostro punto di vista alcuni nodi ancora da sciogliere, quella è una struttura che ha bisogno di una manutenzione ordinaria e anche straordinaria e quindi noi chiederemo subito l'aggiornamento del tavolo con la regione per individuare le risorse economiche che servono a rendere quella struttura sostenibile da ogni punto di vista e poi chiaramente per noi rimane il tema dei lavoratori. I lavoratori che oggi sono in Aspi, alcuni nemmeno in Aspi perché sono gli ex collaboratori sportivi, noi auspichiamo e noi chiederemo al tavolo quando verrà aggiornato con la regione che si prospetti per loro l'apertura di un contratto a tempo indeterminato perché questo per noi segna comunque la possibilità di comunicare prima di tutto ai lavoratori che c'è un'idea di lungo respiro da dare e da ridare a quella struttura.